Sì, sono pronti per l'Itaca, seguimi! Let's go! Autostrada che ride! Ciao, mio nome è Sonia Bregoli e con Pierluigi Musarò siamo co-directori dell'Itaca Festival. Siamo nella nostra terza edizione e abbiamo 8 giorni di eventi qui in Bologna. Siamo molto felici per Penteils, Sanskia e Stefani e IPK e NYU per l'Itaca contest che è stato un successo incredibile. Itaca, buon viaggio! Ciao, Stefani! Ciao! Ciao a tutti i miei amici di Penteils e IPK in New York! Ciao a tutti! Ciao a tutti! Ciao a tutti i miei amici! 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 Ci sono tutti i miei amici e tento stare con in casa per tornare a casa. Io sono il vincitore della sezione fotografia di Itaca Ma come vedete non sono il vincitore del linguaggio perché non parlo molto bene inglese Ma ho i giusti collaboratori, volevo ringraziarvi tutti, volevo salutarvi tutti, mi piacerebbe essere lì con voi E speriamo che sarà per la prossima volta Ciao E voglio ringraziare soprattutto i miei amici che erano nella giurità Quindi grazie molto per essere con noi, Steven, Sergio e Claire, e ovviamente Stefani e tutte le organizzazioni di New York Twin Grazie Ciao 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 Ciao